In molti spesso mi scrivete chiedendomi come fare a iniziare a lavorare online, come iniziare a guadagnare online, come imparare il digital marketing per poi erogare un servizio o vendere prodotti online. Oggi vado a rispondere proprio a questa domanda. Se non mi conosci, come sempre, io sono Michele e mi occupo di imprenditore digitale e digital marketing, iscriviti al canale e guardate tutti i video, così impari di me, ma soprattutto impari a fare un sacco di cose per lavorare online. Oggi ti presento un progetto che si chiama Digital Builders. È un progetto che ho creato insieme ad altre quattro persone e che abbiamo fondato per aiutare le persone proprio a imparare a lavorare online. Questo perché? Perché noi agli inizi abbiamo avuto diverse difficoltà. Abbiamo comprato un sacco di corsi, abbiamo preso un sacco di fregature, ma soprattutto ci siamo fatti un culo così perché dovevamo trovare la nostra strada, trovare e capire come far funzionare bene le cose. Ci siamo riusciti, negli anni abbiamo imparato come lavorare online, adesso ci occupiamo di questo e abbiamo deciso l'anno scorso di creare questo progetto Digital Builders. L'abbiamo portato poi nella forma attuale nel luglio 2019 e aggiornato una seconda volta il corso il 18 febbraio 2020. Ho detto il corso, cos'è questo corso? Allora, fondamentalmente Digital Builders è una community, un gruppo Facebook in cui aiutiamo le persone a fare appunto digital marketing. Abbiamo creato all'interno della community un corso, o meglio un percorso gratuito che ti vado proprio a mostrare adesso. Vedi qua sono dentro al nostro corso. Fondamentalmente c'è una sezione parti da qui, vedi un po' di indicazioni iniziali per lavorare online e per usare al meglio il corso della community. Tutorial sugli strumenti di Builderall, poi ti spiegherò, ma ho già parlato nel canale di che cosa sia Builderall, che è fondamentalmente una piattaforma di marketing. E qua abbiamo vari tutorial su fare siti web, fare email marketing, fare funnel, fare e-commerce, usare altri strumenti o altre tips. Poi abbiamo una sezione secondo me fondamentale relativa al mindset, perché il mindset, come dico sempre, è l'80% del risultato. L'approccio al business, come fai le cose. E qui abbiamo dei video di Lorenzo e dei video miei, Lorenzo è uno degli altri ragazzi. Poi andiamo a trattare nello specifico tre modelli di business. L'SMMA, la affiliate marketing e la promozione di Builderall stesso. Ora, vediamo subito la parte SMMA, che comunque è importante, per in quanto è un business molto interessante. Cos'è l'SMMA? L'SMMA non è altro che Social Media Marketing Agency e consiste nell'erogare un servizio di social media marketing, quindi aiutare delle persone, delle aziende, tendenzialmente aziende locali, a promuoversi online attraverso i social. E qui abbiamo appunto una parte di mindset, di modello di business e poi come fare la tua pagina personale, come trovare aziende che vogliono il tuo sito, come creare un accesso virtuale su Builderall per i collaboratori. Come contattare potenziali clienti, e qua abbiamo Francesco che fa questa lezione. Come portare i risultati ai clienti con le Facebook Ads, è una mia lezione. Come iniziare la tua attività e metterti all'opera. Contenuti avanzati su Calendly, contenuti avanzati su Zapier e Zapier per la Lead Generation. Quindi abbiamo diversi contenuti per aiutarti a creare il tuo business social media marketing. Abbiamo poi la sezione affiliate marketing, in particolare una sezione sul vendere in affilazione, in cui abbiamo appunto diverse lezioni, qua parliamo delle basi dell'affiliate marketing, come creare una landing page per prodotti in affilazione utilizzando Builderall, inserire i frame nella landing page, creare una landing con la privacy policy per le Facebook Ads, cioè la vedi che queste sono lezioni belle e lunghe, anche 50 minuti, 25 minuti. Qui abbiamo il buon Filippo, uno degli altri fondatori, che parla di come rendere performanti su dispositivi mobili di landing page. Abbiamo il buon Vincenzo, un altro dei fondatori, che ci spiega come spiare la concorrenza e cosa la nostra concorrenza, gli altri marketer stanno sponsorizzando online. Come creare pagina Facebook per l'affiliate marketing, come far crescere una pagina Facebook a basso costo, come gestire commenti negativi e un percorso completo per vendere prodotti di Warfilia. Questa è una lezione da un'ora e mezza. Riepilogo, passi da seguire per vendere in affiliazione, come tracciare le vendite di Warfilia in Facebook, copywriting per Facebook Ads. Poi abbiamo la sezione sempre all'interno dell'affiliate marketing sulle Facebook Ads, in cui abbiamo vari miei video su appunto come fare Facebook Ads e quant'altro, ovviamente non solo miei ma anche Vincenzo e quant'altro e gli altri. E arriviamo all'ultimo modello di business che è quello della promozione di Builderall. Quali piani offre Builderall? Quindi Builderall appunto è un software che si può vendere in affiliazione, ha cinque piani, per accedere alla community bisogna avere l'account premium e come funziona l'affiliazione di Builderall? Appunto qua ci è spiegato tutto quanto, come si può andare a guadagnare grazie a questo software e come crearsi una rendita grazie a questo software e come puoi promuovere anche il progetto Digital Builders che è appunto il nostro progetto, spiega come fare entrare le persone in progetto e quant'altro. Qua c'è una lezione su una strategia con Instagram di due ore, quindi capisci che c'è un sacco di valore. Sono circa 80 ore di formazione, una cosa del genere questo percorso, come per valere soldi eccetera. Quindi capisci bene che dentro questo corso ci sono un sacco di informazioni, sono le informazioni di noi cinque, accumulate da anni di esperienza, corsi fatti, tanti test e migliaia di euro spesi sia in corsi che in test e tante tante ore passate sul mondo digital marketing. E noi cambiamo proprio di questo. Se anche tu vuoi imparare a farlo questo potrebbe essere una cosa che ti è utile, ma la cosa che realmente è potente di Digital Builders non è il corso, perché sì il corso sono informazioni che ti servono, ma la qualità è veramente il supporto. Infatti abbiamo il nostro gruppo Facebook in cui diamo supporto a tutte le persone, ad oggi siamo 970 praticamente e ti faccio proprio vedere, qua fanno delle domande, si risponde, ma sono proprio domande di oggi, di 4 ore fa, due account disabilitati, gli sto cercando di dare una mano, poi abbiamo anche qua business manager disabilitati, qua io che condivido i miei video, Lorenzo che dà gli annunci di benvenuto. Qua ho fatto una live di formazione sulle CBO, qui un video di Lorenzo, qua aveva bisogno di una mano sui DNS, di nuovo parliamo di CBO, insomma diversi argomenti, le persone hanno bisogno di aiuto e noi li aiutiamo. Il vantaggio di avere una community e che a me personalmente all'inizio mi avrebbe aiutato tantissimo è il supporto, cioè non è solo imparare a fare le cose, ma è avere un luogo e delle persone a cui chiedere nel momento in cui c'è qualcosa che non va, perché tu puoi anche sapere come lanciare una campagna Facebook, ma tutte le variabili, delle cose che possono andare male, delle cose che si possono ottimizzare e quant'altro, è impossibile impararle da un corso a priori, sono cose che incontri man mano nel percorso, sono ostacoli che devi imparare a superare. Ovviamente puoi farcela benissimo da solo o da sola, cercando le informazioni, essendo indipendente, capendo e ragionando sulle cose, ma sicuramente avere un posto come questa community in cui avere il supporto, fare domande e quant'altro, fidati che è veramente oro e motivo per il quale il gruppo sta crescendo tantissimo, infatti appunto questo qua in questa forma l'abbiamo aperto a luglio 2019, ad oggi che siamo a, praticamente questo video che era pubblicato l'1 marzo, oggi è il 29 marzo, siamo in 970, vedavamo questo aggiornato a ieri e personalizzando le date da oggi all'inizio ti faccio vedere proprio la crescita, all'inizio eravamo appunto a luglio, 1 luglio e come puoi vedere abbiamo una crescita devastante, è lineare, cresce, 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 giorno dopo giorno, quindi è veramente potentissima. abbiamo dettagli sull'interazione per farti capire anche che non è solo una crescita così di gente che entra, ma gente che interagisce, tutti interagiscono, parliamo, facciamo commenti e quant'altro, abbiamo 1450 post in questi mesi, abbiamo 909 membri attivi su 980, decisamente tanti, vabbè qua gli orari e quant'altro, insomma abbiamo, di fatto c'è una community viva e questo fa sì che le persone riescano a crescere, imparare e iniziare a lavorare online seriamente davvero. Quindi se anche tu vuoi far parte della community digital builders cosa dovresti fare? Devi innanzitutto andare in descrizione, trovi due cose, un link a un sito web in cui trovi di nuovo questo video e se sei già nel sito web trovi anche un bottone per entrare nel mio gruppo telegram in cui puoi farmi tutte le domande che vuoi e trovi anche un bottone sia nel sito web sia nella descrizione, trovi un link per andare ad acquistare Builderall. Builderall è questo software che utilizziamo per fare digital marketing, questa piattaforma ne avevo fatto già una recensione sul canale e per entrare nella community noi non chiediamo soldi, sarebbe un corso che potremmo tranquillamente vendere a 2500 euro perché gli vale tutti, più il supporto settimanale, giornaliero, quotidiano, sarebbero tanti altri soldi che potremmo chiedere, ma abbiamo deciso di aiutare le persone, perciò noi diciamo solo compra Builderall che è uno strumento che ti serve e noi ti insegniamo ad utilizzarlo, lo vendiamo in affiliazione e prendiamo un piccolo gettone quindi un 30% sull'abbonamento, sono 17 euro al mese per ogni persona che entra e noi diciamo che con questo gettone ci prendiamo la responsabilità di aiutare le persone, quindi è una cosa win-win anche perché è uno strumento che dovrai utilizzare per lavorare online. Quindi niente, se ti interessa entrare nella community in descrizione trovi tutti i link del caso, lasciami un commento anche riguardo a cosa ne pensi e per il resto noi ci vediamo al prossimo video. Buon business!